Ma perché impegnarsi a leggere un libro quando potresti spendere quel tempo davanti ai video consigliati di YouTube? Capiamoci, il conte di Monte Cristo, di Alexandre Dumas, porta via 60 ore di lettura, a meno che la lettura non abbia distrazioni, ritorni, non ho capito, devo rileggere, allora diventano 120-150 ore. E, insomma, in 60 o 150 ore, quante partite di Call of Duty riesci a vincere? Prova a dirmelo. Memoria del Sottosuolo, di Fedor Dostoievski, è più accessibile, meno lungo, una dozzina di ore circa. Ma c'è la monografia di Eric Dufer, insomma, c'è già la pappa pronta, cosa sto lì a guardare per 12 ore un libro senza capirlo quando c'è Dufer che mi dà tutto quanto senza nessun problema. Voler leggere, desiderare la lettura ma non riuscirci è un dramma vero perché rischi di non renderti conto di quello che stai perdendo. E oggi ne parliamo per bene, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Ricevo centinaia di messaggi, Rick, Rick voglio leggere, desidero leggere, voglio tanti libri nella mia vita ma non ci riesco. E le ricevo soprattutto da persone giovani, persone che magari hanno quella fame e lo chiedono a me molto spesso perché seguire i miei canali credo faccia venire quella fame di lettura. Perché io spesso dico, ragazzi, a me leggere ha salvato la vita. E quando lo dico, lo dico con grande serietà. Non è né una metafora né un'esagerazione. Leggere mi ha salvato la vita. Leggere mi ha permesso di arrivare a fare quello che faccio e quindi avere una vita soddisfacente, realizzata, di cui sono molto molto orgoglioso. È tutto partito dalla lettura dei libri giusti nel momento giusto. E non è uno scherzo questo. Ma quella fame che io credo di riuscire a suscitare, e questa è una cosa di cui vado orgoglioso, non basta. Non basta la fame. Bisogna anche sentirsi insufficienti, ignoranti, stupidi, inadeguati. Oggi faccio un daily cogito cercando di farvi sentire così insufficienti, ignoranti, stupidi, inadeguati. Non esattamente la migliore operazione di marketing che si possa pensare, ma l'unico modo efficace per farvi muovere il culo a leggere i libri giusti al momento giusto. Ok? Ok. Prima di introiettarci in questa puntata deliziosissima, vorrei ricordarvi che ci aspetta un mese di novembre straordinario, spettacolare, pieno di ospiti straordinari e spettacolari. Per esempio, mercoledì 3, qui in studio avremo Gianluca Iacono, voce di Gordon Ramsay, voce di Vegeta, voce di la nuova sigla di Daily Cogito, per esempio. E Gianluca è un personaggio straordinario con cui ho fatto delle belle cose in questi giorni al Luca Comics, fra cui una lettura a teatro del 33esimo canto del Paradiso di Dante, che è stato un momento veramente commovente, emozionante, un momento di accrescimento mio, personale, e anche spero di chi era presente lì al teatro del suffragio a Lucca, insieme anche a Emanuele Apacotto, che prima o poi portiamo qui in studio sicuramente, e quindi sarà qui con noi. E poi durante questo mese avremo l'Avvocato dell'Atomo, e avremo Dario Mocce, avremo Il Masseo, e avremo Francesco Costa, Roberto Mercadini, Martina Dell'Ombra, abbiamo un mese devastante. Quindi, quindi, segnatevi bene tutti gli appuntamenti, su Telegram, su Instagram, trovate tutto quanto, insomma, le informazioni anche sugli eventi dal vivo, e poi vi ricordo anche, on pass, anche il 28 novembre, c'è il mio spettacolo, quanti giga pesa Dio a Roma, e mancano pochissimi, pochissimi biglietti, quindi andate a dare un'occhiata sul mio sito, rickdufer.com, sezione eventi, per andare a prenotare il vostro posto, ok? E adesso veniamo a noi. Perché leggere dei libri? Cioè, è una domanda che sembra così inutile, perché, beh, leggi i libri perché i libri fanno bene, in realtà lì fuori è pieno di gente che compra libri, Instagramma i libri, ma poi non li legge, e poi è pieno di gente che i libri dice, non ci perdo tempo. E qui c'è un problema grosso, perché, beh, cercheremo di capire perché non leggere libri è un problema. Durante questa puntata non farò distinzione tra saggistica e narrativa, perché sono due linguaggi, entrambi fondamentali per me, saggistica di ogni tipo, filosofica, scientifica, insomma, io divoro tanti saggi e divoro tantissima narrativa, perché sono due linguaggi della letteratura che hanno il loro scopo, hanno il loro ambito, e sono entrambi fondamentali. Non seguite quelli che vi dicono, eh no, beh, la saggistica è importante, ma la narrativa è una cosa di evasione, o il contrario, chi ti dice che devi leggere solo narrativa e niente saggistica. No, sono veramente due linguaggi che completano il mondo dei libri, ed è fondamentale. Però, dobbiamo renderci conto di alcuni punti importanti. Per esempio, il libro è ancora il luogo migliore dove trarre strumenti mentali, intellettuali, sono cassette degli attrezzi per imparare a pensare. Molto di più rispetto a un video di YouTube, a un podcast, molto di più rispetto a un film, a una serie TV, molto di più rispetto a una conferenza. Il libro è ancora il luogo migliore dove fare questa roba qua. Allena, infatti, leggere la pazienza. E senza la pazienza non c'è sapienza, c'è erudizione, c'è... Conosco queste cose, ho imparato, ho memorizzato, ma non c'è la sapienza, c'è la capacità di applicare nella tua vita quello che hai imparato in modo fecondo e proficuo. Non c'è questa cosa qua senza la pazienza. Il libro, poi, che cos'è in fin dei conti? È, al di là dell'oggetto cartaceo, ma anche e-book, io sono un grande lettore di e-book, e quindi in realtà per me libro e e-book si equivalgono. Il libro è la traccia dello sforzo con cui qualcuno ha tentato di mettere in ordine i propri pensieri. È come se la nostra mente fosse un dilagare di cose, letteralmente un lago anarchico che è pieno di stimoli, contenuti, idee, elementi, e dobbiamo imparare a creare dei canali, dei canali, dei filamenti, delle straduccole, dei sentieri, che ci permettono di capire qui dentro quello che c'è, perché c'è, come c'è e che cazzo farne. E i libri sono il modo con cui qualcuno ha segnato i propri canali e da cui possiamo, in modo molto prudente, trarre ispirazione. E dalla messa in ordine dei pensieri alla buona espressione delle idee, c'è tutto il mondo della comprensione di quello che ci sta intorno. E i libri fanno esattamente questo. Ci portano dall'ordine delle idee alla loro buona espressione. La fame che sentiamo di fronte ai libri, e anche le persone meno avvezze alla lettura, nel libro vedono un oggetto affascinante. Del motivo per cui a volte la gente rifiuta con violenza i libri. Ho visto anche degli streamer sui Twitch, di fronte all'invito di persone a ma leggiti sto libro, reagire con violenza, con veemenza. Perché? Perché tutti sentono l'attrazione nei confronti del libro. Il libro è un oggetto magico, mistico, pieno di cose interessanti. E se tu non hai il coraggio di leggere, rifiuti il libro con violenza. La fame di fronte ai libri è fatta di tre elementi, secondo me. Il primo, il libro dà strumenti per interpretare. E questo ha a che fare col contenuto del libro. Quindi ha a che fare con ciò che il libro ti dice, tanto nella narrativa quanto nella saggistica. Il secondo elemento è l'ordine delle idee. L'ordine con cui le idee del libro, i contenuti, sono esposti. E questo ha a che fare con le intenzioni dell'autore e non solo. E poi il terzo elemento, la buona espressione di quelle idee. Ovvero la forma del libro, il modo con cui le idee vengono espresse. Ecco che padroneggiare questi tre elementi può veramente fare la differenza fra una vita di successo in ogni ambito e una vita di frustrazione, in cui non sappiamo che cazzo fare con quel lago demente, anarchico e ricco che abbiamo nella testa. Privo di canali, privo di sentieri, privo di ordine. E quindi questi tre elementi. Andiamo un po' a sviscerarli e poi arriveremo a delle conclusioni che spero possano essere il motivo per rendervi inevitabile andare a leggere. Primo, gli strumenti interpretativi. Prima di tutto, io me ne accorgo, sarà l'argomento di uno dei prossimi dei Licogito, che sempre di più, soprattutto in alcuni ambiti, per esempio quello videoludico, stiamo perdendo completamente la cognizione e la differenza fra una verità di fatto e un'interpretazione. Quindi un dato che accade, che è chiaro, che è eloquente di per sé, e un'interpretazione che invece è il modo con cui leggiamo un qualcosa, una metafora, una figura retorica e via dicendo. Ecco, i libri sono strumenti interpretativi. Perché? Perché il libro fornisce, anzi, i libri forniscono diverse prospettive su problemi comuni. Vi faccio un esempio. Prendete due libri che parlano di avventure acquatiche. Moby Dick e 20.000 leghe sotto i mari. Da un lato Melville, dall'altro il grande Jules Verne. Da un lato il capitano Aqab e dall'altro il capitano Nemo. Allora, Moby Dick e 20.000 leghe sotto i mari parlano di avventure esplorazione con due approcci radicalmente diversi. Da un lato Moby Dick è un libro romantico, un libro che spinge, che mostra il fascino della lotta contro il destino, contro tutto e contro tutti. Questo capitano Aqab che si slancia in modo idiota, demente, in modo assolutamente irresponsabile, incosciente, animalesco, contro il suo destino. Moby Dick è questa metafora del destino, metafora dell'obiettivo di vita. Possiamo metterci quante interpretazioni possiamo dare a questi elementi del libro. E leggere libri ci permette di interpretare ancora più riccamente persino una roba come una balena inventata, Moby Dick. Pensate voi cosa fanno i libri. Dall'altro abbiamo 20.000 leghe sotto i mari, che è un libro di avventura, in cui tutto quanto, invece, non ha a che fare con la promozione assolutamente appassionata dell'esplorazione contro tutto e contro tutti, ma, invece, è l'idea che il progresso avviene attraverso il freddo e cinico calcolo delle probabilità, del rischio, il soppesare costi e benefici. E infatti tu hai Akab da un lato e Nemo. Akab è spinto da questo fuoco pazzo, folle, che lo porterà poi, insomma, all'autodistruzione, molto prima che si autodistrugga. Dall'altro il capitano Nemo, razionale, anche sinistro, che va per sotterfugi, che gioca con la mente dei suoi adepti e anche dei suoi nemici. Quindi un avventuriero in modo molto diverso. Ecco, Moby Dick e 20.000 leghe sotto i mari sono due libri che ti parlano di un problema, che viviamo tutti nella vita, cioè l'avventura, lo slancio verso l'esplorazione, l'andare oltre i confini di ciò che ci è dato come normale e naturale, e ci dà questa idea, questo problema, con prospettive radicalmente diverse. Melville e Jules Verne ci mostrano due lati della stessa medaglia. E poi potremmo aprirci e citare un altro centinaia di libri che parlano di quell'argomento lì, dandoci ognuno una prospettiva diversa. Ed ecco che il lettore ha un'idea sempre più ricca quanti più libri, ovvero prospettive, ha letto intorno a quel problema. Che ben lungi quindi dall'essere un problema etereo o a mostrare prospettive poco concrete, ha strumenti nuovi per interpretare ciò che lui sente nei confronti di quegli aspetti concreti della sua vita. Persino con libri di storie inventate come Moby Dick e 20.000 leghe sotto i mari. Il libro quindi ti apre a un florileggio di interpretazioni, visioni, prospettive, sguardi su un problema che magari tu hai sempre ritenuto irrisolvibile. Quante volte capita? Tu ritieni un problema irrisolvibile e quindi non te lo sei mai posto come problema, ma come ostacolo. E un libro ti dice, no, non è un ostacolo, è un problema. E guarda, questo, 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 questo sono esempi per affrontarlo, superarlo, metterlo in discussione, farlo diventare un punto di forza. Ragazzi, questo riesce a fare un libro. E perché riesce a farlo? Perché il libro suscita domande più che dare delle risposte. Mi viene in mente sempre quella bellissima frase di Darwin, il quale, messo di fronte all'idea dell'evoluzionismo, dice, eh, vedi però, il mio non è un modo per dare risposte alla gente, è un modo per dire, guarda, ci sono domande migliori che puoi porti. E quindi, quando ti trovi di fronte ai problemi della tua vita, sia un po' più Darwin e un po' meno Paolo Fox, cerca di guardare al mondo i tuoi problemi e chiederti, quali sono le domande più proficue che io posso pormi intorno a questa questione, invece di dire, ah, c'è quello lì che mi dice che questa questione ha questa risposta. Ecco, i libri riescono a fare questo, selezione naturale delle domande. Darwin non ti dice, eh, la verità è questa, ti dice, forse porsi la domanda su chi ha creato l'universo, puoi portela, eh, ma ci mancherebbe, sei liberissimo, però non ti porta mica tanto lontano, ecco, cioè le risposte te le possono dare i preti, i sacerdoti, i religiosi, ma non il mondo in sé per sé. Il libro, a differenza di un film o di altri media di cui io sono molto appassionato, sapete che io amo il cinema, amo le serie tv, amo il videogioco, io li adoro, ma il libro, a differenza di questi linguaggi, non ti dà mai una sazietà, ma ti spinge a riempire dei buchi. Pensate soltanto a tutti i libri di Tolkien, Tolkien che in realtà racconta storie il cui vero valore è ciò che sta al di fuori delle storie, è il motivo per cui intorno alla saga tolkieniana ci sono milioni di pagine di fanfiction, di storie collegate, inventate, perché la nostra mente deve riempire questi elementi, perché quando tu hai un problema di fronte, non una risposta, la tua mente crea canali, e creando canali pone problemi in modo sempre più personale, proficuo, utile, concreto. Pensate a Lovecraft con le sue storie, in cui non ti dà mai la descrizione ultima dei mostri di cui narra, ma sei tu a dover riempire quelle descrizioni sfumate, usando il tuo cervello per capire meglio come sei fatto, come è fatta la tua paura. Oppure un altro grande libro, che è Memorie di Adriano, di Margaret Yorsenar, che tratteremo sicuramente in una prossima monografica, perché è uno dei miei libri preferiti in assoluto, in cui leggendo quelle pagine stupendoti del modo in cui una scrittrice francese possa conoscere così a fondo l'animo dell'uomo, dell'uomo romano peraltro, di un uomo di secoli fa al punto che ti chiedi ma questa veramente è una reincarnazione, non può che essere così, e però ti mette la fame di sapere tutto quello che sta intorno alla vita di Adriano, e quindi ti spinge a leggere altri libri, ad approfondire, insomma, il libro non ti sazia mai veramente quando ti rendi conto della sua natura che è quella di farti porrere domande. Il libro è lo strumento che meglio di qualsiasi altro ti costringe a pensare con la tua testa, perché ti lascia lo spazio di usarla, e questo è un punto fondamentale. Il secondo elemento, l'ordine delle idee. Ecco qui arriviamo su una cosa veramente delicata, perché vedete, più complessi sono i problemi che affrontiamo nella nostra vita, più è ingarbugliato il sistema di nessi che le idee richiedono. E sapete qual è la questione veramente viva qui? È che quasi tutti i problemi concreti della nostra vita sono complessi, e quindi sono ingarbugliati, e quindi ogni problema si presenta come un casino irrisolvibile, è il motivo per cui confondiamo problemi e ostacoli. A volte ci troviamo di fronte a problemi, ma non abbiamo gli strumenti per sgarbugli, sgarbugliarli, e quindi ci sembrano ostacoli insormontabili, e non possiamo farci nulla. E lì ci servono prospettive, ma non solo, ci serve anche un modo per riordinare quel garbuglio. Leggere libri significa, prima di qualsiasi altra cosa, vedere come un autore ha dato ordine al proprio garbuglio. Cioè i libri sono tracce, di modi con cui altri si sono riordinati. riordinati. Il libro è una traccia, è la traccia del lavoro di un intelletto, e affrontare un libro significa rivedere quella traccia, come uno spartito musicale, vedere come è stato ordinato un certo, una certa melodia, una certa musica, ed è un esempio, quindi, di come io potrei ordinare le mie idee. E ovviamente più sono i libri che ho letto, più sono gli esempi che potrei prendere, più potrei ricombinare i vari esempi. Questo è leggere, che non è soltanto evadere, non è soltanto passare un po' di tempo insieme a delle pagine simpatiche, non è quello. In tutto questo, vorrei dire che può aiutare, per esempio, a conoscere l'autore. Vi faccio un esempio personale, prendete la metamorfosi di Franz Kafka, ho fatto la monografia, un annetto fa, recuperatevela. Metamorfosi di Kafka è un libro straordinario, anche se non so chi sia Kafka e se non so che l'ha scritto Kafka. Ma diventa più chiaro se io conosco Kafka, con grande attenzione, perché questo non è obbligatorio. Il buon libro parla oltre le intenzioni del suo autore. E allora ecco l'esempio di Kafka. Per me, Gregor Samsa, il protagonista di questo grande racconto, le metamorfosi di Kafka, ha significato, l'ho letto molto presto, prima di sapere veramente chi fosse Kafka, e quando l'ho letto, per me, Gregor Samsa rappresentava la paura di guardarsi allo specchio senza riconoscersi, che è una paura devastante. Cos'è che succede a Gregor? Si sveglia un mattino ed è diventato uno scarafaggio, un insetto. Si guarda allo specchio e dice, questo non sono io, però sono anche io. Non si riconosce. C'è uno iato fra il ricordo che lui ha di sé e quello che vede allo specchio. Questa è una paura che ci perseguita, che per esempio è una delle mie grandi paure, perché l'ho vissuta in passato e per me Kafka ha raccontato quella roba lì. Ma a quel punto, anche se le metamorfosi sono questo, i miei strumenti interpretativi, quindi il modo con cui riesco a dare ordine alle idee con cui Kafka ha dato ordine alle sue, e quindi riesco a interpretare questo tipo di narrazione, i miei strumenti saranno più affilati se conoscerò la vita dell'autore. Per esempio, se io, insieme alla metamorfosi, leggo anche il castello e la lettera al padre, capisco di più di quello che Kafka voleva dire nella metamorfosi. Attenzione però, in primo luogo, la metamorfosi non necessita di questo passaggio per essere un grande libro. E un grande libro è questo. Oggi noi viviamo troppo di biografismo, tanti libri sono merda e prendono veramente valore solo perché ah, l'ha scritto lui e allora, no, se un libro è merda, è merda anche se l'ha scritto Borges, che però non ha mai scritto merda nella sua vita, perché i suoi libri non sono di valore perché era Borges. Ma vabbè, questo è forse troppo complesso da aprire adesso. Un libro vive e trova valore perché è quel libro, non perché l'ha scritto quella persona, ok? Ovviamente non devo farne però un idolo intoccabile, quindi, le metamorfosi di Kafka, la metamorfosi anzi di Kafka perché altrimenti è di Ovidio, la metamorfosi è un grande libro. Se poi conosco la vita di Kafka, ho qualche prospettiva in più per collocare, per contestualizzare ciò che mi racconta. Non devo però ovviamente fermarmi e dire quello che secondo me Kafka voleva dire nella metamorfosi è quello che la metamorfosi è. Questo è sbagliato perché sapere quello che Kafka forse, indovino, volesse dire è in più rispetto a ciò che il racconto mi ha detto e ha creato in me. Ok? Quindi questo era importante. I libri di filosofia in questo dare ordine alle idee sono un perfetto esempio di tutto questo. Un libro di filosofia in fin dei conti è un modo di dare ordine a idee comuni in un modo non comune. Prendete l'etica di Spinoza. L'etica di Spinoza si pone un problema molto molto chiaro. Cosa vuol dire comportarsi bene? Proprio basilare, basic basic e fa un ragionamento decisamente non comune che rende molto difficile la lettura. Inventa un nuovo ordine di idee. Inventa il libro di filosofia. Altro esempio il trattato teologico politico sempre di Spinoza prende un problema molto comune soprattutto al tempo di Spinoza cioè chi è l'autorità e perché devo fidarmi degli esperti e ti smonta pezzo per pezzo tutti i pregiudizi che noi abbiamo nei confronti anche dei nostri esperti. e ti spinge a dire pensa con la tua testa ma in un modo non comune te lo dice usando la Bibbia usando il concetto di miracolo usando la politica del suo tempo ed è questo che ti fa e ti dà strumenti e ti mette in ordine le idee o ti mostra un esempio con cui mettere in ordine idee complicate la critica della ragion pura di Kant il problema è molto semplice perché io penso come penso perché io do ordine al mondo in un certo modo e non in un altro e Kant si pone questo problema che prima o poi tutti si pongono nella vita perché io vedo questo tavolo così e non come se fosse un blob verde e imbizzarrito tanto per essere un po' così fantasiosi e ti crea un'opera che ti dice ah è perché siamo costruiti in questo modo e quindi affronta un problema comune in un modo non comune la storia della follia nell'età classica di Foucault prende un problema comune cosa vuol dire normalità nel mondo perché intendiamo normale delle cose e altre invece no e ti fa un ragionamento non comune cioè crea un ordine di idee che altri non avrebbero mai creato in quel modo lì andando a ripescare il modo con cui nell'ottocento si mettevano in manicomio i pazzi collegando questo al sistema carcerario più non comune di questo insomma quindi il libro ti mostra esempi con cui dare ordine alle tue idee e ti spinge a riordinarle in modo tuo perché più libri leggi più hai prospettive sui problemi che affronti più hai tracce con cui altri hanno dato ordine alle proprie idee e lì cominci veramente a ragionare però tutto questo non avrebbe senso se non ci fosse il terzo elemento la buona espressione dell'ordine delle idee perché un libro non è soltanto riordinare idee e anche esprimere il modo con cui le ha riordinate e quello è un bel casino perché in fin dei conti i libri sono uso del linguaggio noi quando leggiamo un libro leggiamo parole perifrasi frasi periodi punteggiature ritmo stile leggiamo metafore e figure retoriche similitudini che hanno un valore hanno un peso all'interno del libro che leggiamo ci sono concetti espressi attraverso sintesi quindi per esempio formule slogan oppure ci sono concetti espressi in un florileggio di parole molto complessi molto barocchi e lì c'è un motivo per cui l'autore sceglie di scrivere in un certo modo quella certa questione e idea e poi c'è la scelta fra un linguaggio tecnico specifico molto preciso oppure un linguaggio più divulgativo e questo vale per la filosofia vale per la fisica vale per la letteratura vale per tutto quanto il tutto questo in relazione all'obiettivo del libro al target del libro quindi al messaggio che uno vuole trasmettere e al tipo di lettore a cui si rivolge capite bene che leggere libri significa imparare come qualcuno ha cercato di padroneggiare meglio la propria espressività e quindi acquisire strumenti per padroneggiare meglio la mia espressività mi permette di intanto la cosa più basilare ampliare il vocabolario i libri sono pieni di parole bellissime parole che non sapevamo parole che ci servono per dire cose che prima non potevamo dire quindi avere sfumature di parole sfumature emotive intellettuali ampliare il vocabolario lo sappiamo abbiamo fatto la monografia su Orwell il mese scorso ampliare il vocabolario è il primo modo per sottrarsi al potere più parole hai per dire quello che sei e senti meno potrai essere manipolato e quindi dominato significa anche comprendere meglio le figure retoriche noi stiamo perdendo il valore della metafora ragazzi e prima dicevo abbiamo smesso di discernere fra verità e interpretazione sì perché spesso le metafore noi le scambiamo con verità quando la metafora è stare al posto di qualcos'altro ma questo ripeto lo tratteremo in un prossimo daily cogito possiamo capire la logica dietro un discorso e questo è fondamentale cioè valutare come un discorso è costruito se le premesse riescono ad essere edificate in modo solido e arrivano a conclusioni che siano coerenti con quelle premesse e perché sì e perché no capire l'ordine del discorso dal punto di vista logico cosa che ormai purtroppo ci siamo quasi arresi a non poter fare che è un dramma culturale incredibile e poi espressività significa anche avere chiaro il contesto e le condizioni del contesto cioè il fatto che in un contesto ci sono criteri di selezione del discorso diverso rispetto a un altro contesto e a teatro posso fare un certo discorso esprimere in un certo modo e invece al bar in un altro modo oppure una conferenza divulgativa in un altro oppure a mio figlio o con mio figlio userò un registro con mia moglie un altro e non per questo falsificando quello che voglio dire ma semplicemente capendo come si connette la mia espressività a quel contesto ben preciso e anche questo perdonatemi ma è centralissimo per vivere discretamente bene infatti non serve a nulla avere ordine nelle proprie idee se poi non posso esprimerle perché mi manca il linguaggio questa è fonte di infinite serie di frustrazioni perché quando abbiamo qualcosa nel cuore nella mente non abbiamo le parole per esprimerlo ci facciamo del male ci facciamo un male incredibile perché quando proviamo per esprimerci gli altri non ci capiscono e quando gli altri non ci capiscono ci abbandonano e quindi i libri ci danno strumenti per dire chi siamo da nazione questo è quello che succede quando leggi un libro tu hai linguaggio figure retoriche metafore per dire meglio chi sei per mostrarti e non serve un cazzo mostrarsi agghindandosi in un certo modo usando un certo gergo apparendo in quel modo dicendo che tu sei quella roba lì se però non hai nessuna connessione fra quello che intimamente hai dentro e quello che gli altri capiscono di te e noi viviamo in questa spaccatura incredibile che quello che siamo è nascosto nell'abisso dentro di noi e quello che mostriamo ha a che fare con quello che secondo noi gli altri vogliono da noi e non c'è connessione non c'è ponte e in quella mancanza di connessione signore e signori l'essere umano si dissolve la nostra capacità di essere eloquenti quindi di connettere l'intimità di quello che siamo a quello che diciamo e che gli altri carpiscono di noi attraverso un buon linguaggio questa eloquenza questa capacità di essere eloquenti sta crollando perché uniamo da un lato l'uso smodato del gergo internettiano che mi piace io mi diverte è bello il mondo del meme della perifrasi internettiana delle abbraviazioni del nuovo gergo e via dicendo questo uso smodato del gergo che ormai ha sostituito quasi del tutto il nostro modo di esprimerci ha la totale mancanza di letture adeguate letture che dall'altro lato amplifichino è la nostra capacità di esprimerci e andrebbe molto bene il gergo internettiano se poi dall'altra parte bilanciassimo con la lettura di libri che ci permettono di padroneggiare il linguaggio useremo anche quel gergo in modo più consapevole nel contesto giusto ma quando abbiamo solo quello e non quell'altro ogni contesto scompare perché il contesto vive di ciò che ne sappiamo dire e se tutto è linguaggio internettiano tutto diventerà virtuale e noi questa roba qua dobbiamo evitarla in questi giorni sto rileggendo anzi devo dire sto riascoltando io ho letto molto tempo fa ma adesso sto ascoltando l'audiolibro del conte di Monte Cristo capolavoro senza tempo ne farò una monografica perché è veramente un libro straordinario e lo stile con cui vengono espresse idee ben ordinate intorno a problemi molto complicati è abbaccinante il linguaggio di Alexandre Dumas è qualcosa che ti apre mondi di comprensione me ne è rimasta in testa una proprio ascoltandola oggi durante il ritorno da Lucca ascoltando a un certo punto un personaggio dice parlando di un altro mancandogli la fiducia negli altri individui gli mancò la fiducia negli eventi del mondo adesso detto così decontestualizzato sembra una frase in realtà una frase già di per sé potentissima perché dentro delle implicazioni straordinarie è una domanda che ti fa porre un sacco è un'espressione che ti fa porre un sacco di domande ti apre strade sentieri già di per sé così poi nel contesto in cui veniva detta che è un contesto geopolitico straordinario cosa sto a dirvela a fare leggetevi il conto di Montecristo e questa frase mi ha proprio fatto esplodere dentro qualcosa ho detto oh cazzo cosa ho appena sentito non me la ricordavo perché forse l'ho letta troppo tempo fa ed ero troppo giovane ma veramente una frase strapiena di mondi al suo interno ecco vedete leggere significa entrare in contatto con persone che hanno fatto esattamente questo e quindi imparare a dire bene quel che si pensa in modo chiaro e ordinato e a questo servono i libri e aggiungo che a volte dire le cose significa anche dare ordine alle cose cioè non vedetele come elementi gerarchici staccati a volte noi diciamo qualcosa pensando di aver messo ordine ma quando le diciamo capiamo che l'ordine mentale non era l'ordine pragmatico effettivo e quindi il dire migliora l'ordine che avevamo nella mente quindi anche lì insomma uno scrive libri per darsi ordine in mezzo a tutto questo che spero sia stato di ispirazione dobbiamo tornare con i piedi per terra e ammettere che c'è un problema un problema enorme tutto questo richiede molto tempo e significa sacrificare altre attività chiunque nei commenti o adesso in live dica ma io non ho tempo di leggere sta dicendo una stronzata di livelli cosmici tutti hanno il tempo di leggere anche quando studi all'università anche quando lavori anche quando fai un lavoro che ti porta via otto ore al giorno tu hai il tempo di leggere e che poi scegli di dedicare il tempo libero al di fuori dello studio di lavoro ad altro e va benissimo va benissimo videogiocare va benissimo andare fuori con gli amici va benissimo guardarsi film ma ci mancherebbe nessuno dice che devi lavorare studiare e poi leggere libri no però devi esserne consapevole devi sapere devi ammettere a te stesso che tu in realtà stai scegliendo di dedicare ad altro perché ammettere questo significa che fra qualche anno potresti dire cazzo però sta roba mi serve proprio e quindi prendo e non so sacrifico la serata giochi di ruolo sacrifico qualsiasi cosa la giocata su call of duty sacrifico l'ora di palestra settimana per leggere perché sento che mi serve se uno non sa mai ammettere il fatto che il tempo per leggere c'è non leggerà mai ok quindi dicevo questo è un problema perché serve molto tempo per leggere non è una cosa che fai così però però dovete farlo dovete sacrificare qualcosa se volete leggere e se durante questa puntata vi ho trasmesso un minimo dell'importanza che io attribuisco alla lettura se io sono qui a fare quello che faccio e se alcuni di voi hanno ammirazione per Daily Cogito e i progetti che portiamo avanti ecco dovete saperlo è partito tutto dai libri e dai libri non poteva che partire ecco forse vi rendete conto che prima o poi più prima che poi dovete farlo dovete decidere da dove trarre il tempo per leggere dovete farlo sarei addirittura felice sapere se alcuni di voi scegliessero di dedicare mezz'ora in meno ai miei Daily Cogito e mezz'ora in più ai libri sarei felicissimo di saperlo ok poi spero che magari andiate a sacrificare qualcos'altro perché insomma mi dispiacerebbe perdere però sarei contento di saperlo e se in tanti doveste fare questa cosa io scriverò più libri e quindi ovviamo al problema vabbè a parte le battute il vero problema qual è? perché ci stiamo disinnamorando e distaccando dalla lettura sempre di più e in modo sempre più drammatico e vi ricordo che le statistiche dell'acquisto di libri non significano nulla perché in realtà c'è tanta gente che acquista un sacco di libri e non le legge mai neanche uno perché hanno un feticismo e quello lì mi spiace non è lettura non è che se compri l'Ulisse di Joyce hai letto l'Ulisse di Joyce sorry quindi il vero problema è secondo me che in questa epoca noi cerchiamo troppo velocemente il risponso della bilancia costi benefici siamo disabituati a dare il tempo adeguato a questo bilanciamento che richiede tempo soprattutto in alcune cose vogliamo sapere subito se la spesa che sosteniamo adesso porta a un vantaggio tangibile vogliamo sapere subito se le 60 ore dedicate al conte di Monte Cristo o le 15 a Dostoievski o le 30 per diritto e castigo ci portano a un vantaggio perché? perché quando giochiamo a Bloodborne Call of Duty o quando andiamo fuori con gli amici o quando andiamo a vedere un film la soddisfazione del tempo trascorso ce l'abbiamo subito immediatamente e attenzione non voglio dire che il libro non abbia quell'elemento lì perché poi leggere i libri è molto divertente è bellissimo il conte di Monte Cristo è un libro che ti riempie di gioia continua che ti fa sentire emozioni contrastanti che ti mette in discussione però è più faticoso rispetto a mettersi sul divano a guardare un film rispetto a fare altre cose e il differimento fra la fruizione di un libro e il beneficio che mi porta è più ampio rispetto alla soddisfazione di giocare a un videogioco adesso per quanto un videogioco possa essere un capolavoro lo sapete Death Stranding Bloodborne Dark Souls per me sono capolavori ma è diverso rispetto a un libro e un libro non funziona così leggere soprattutto all'inizio quando uno comincia sarà molto più faticoso rispetto ad altri comportamenti che mettiamo in atto in cui entriamo e prima di mostrare risultati concreti e benefici concreti potrebbe passare del tempo anche perché poi uno inizia a leggere e capita che il primo libro che legge non gli piace non fa per lui non è il momento giusto capita che quell'autore non è capita che quel consiglio non fa quindi magari passa del tempo in cui uno affronta vede e sta roba non gli piace se non c'è perseveranza lì se non scommettete sul fatto che la lettura vi aprirà dei sentieri interpretativi vi darà dei benefici e quindi dedicate tempo anche se all'inizio è più fatica che beneficio non andate da nessuna parte proprio non ne cavate un ragno da un buco e invece bisogna rendersi conto se uno abbandona la lettura o rimanda troppo a lungo la lettura rischia di perdere la capacità di provare la sana vergogna per la propria insufficienza il fatto che qualcuno oggi mi scriva Rick vorrei leggere ma non ce la faccio è un bene ti rendi conto che hai bisogno di una cosa e che non sei all'altezza dell'esperienza che quella cosa ti richiede perché vedete i libri hanno questo aspetto sono al tempo stesso carburante ed effetto dell'ignoranza sì perché scrivo libro l'autore scrive un libro mosso dal fatto che deve fare ordine a sé quindi l'ignoranza è un motore di quel libro è il libro letto da qualcuno ti fa rendere conto di quanto tu sei ignorante intorno a quei problemi e questo è un circolo virtuoso e se io non leggo libri metterò da parte uno dei mezzi fondamentali che mi permettono di accorgermi della mia ignoranza e quando smetto di accorgermi della mia ignoranza non sono più ignorante divento stupido insomma divento un mona e se qualcuno ascolta Daily Cogito sapete è meglio non diventare mona perché il mona è lo zombie la lettura è la sola vera arma che abbiamo per affrontare a testa alta il casino del mondo che ci circonda e che abbiamo dentro se dopo questo Daily Cogito in cui ho profuso grandi energie per spiegarvi cos'è per me il libro se dopo questo Daily Cogito non alzi il culo per iniziare a leggere per davvero qualcosa che riesca a darti strumenti il tuo problema diventerà presto insormontabile e non sarà più un problema e neanche un ostacolo sarà una muraglia e non vedrai più un cazzo e quindi cosa stai aspettando? vai a leggere un buon libro uno di quelli che ho citato non te ne pentirai e direi che oggi è tutto direi che oggi è tutto e spero di aver fatto dei ragionamenti proficui utili espressi bene in ordine perché altrimenti leggere non sarebbe un cazzo neanche a me se la puntata vi è piaciuta condividetela ricordatevi che Daily Cogito vive della condivisione perché lì fuori è pieno di gente che ha bisogno di sentire queste parole ma magari non sa che esistono e quindi condividete le puntate quando vi danno qualcosa di utile di concreto e io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me quindi mi raccomando condividete iscrivetevi venite a trovarci in live abbonatevi sosteneteci con Patreon con gli abbonamenti insomma fate quello che è in vostro potere per mandare avanti questa lotta contro la zombificazione ci vediamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa ciao iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale